Nell'ultima puntata del suo podcast Jim Ross, ex telecronista da WWE, ha parlato dello scandalo che sta travolgendo Vince McMahon. Ecco un estratto tradotto e adattato in italiano. Ci sono in ballo grossi cambiamenti e sarò lieto quando il vento avrà ripulito tutto il passato. Ne sono stanco ed è imbarazzante che siano successe determinate cose in certi modi, colpendo un sacco di gente innocente. Questa è la mia opinione, potrei anche sbagliarmi, ma è tempo di andare avanti e dare pace e riposo a certe persone. Bisogna andare avanti e mai avrei creduto che Vince potesse permettere alla sua azienda di andare così fuori controllo. E invece è successo e per me è un dispiacere perché so quanto la WWE fosse importante per lui e sono sicuro che in una certa misura lo sia ancora. Ad ogni modo è ora. Andiamo, guardiamo avanti, riavvolgiamo l'amo e ributtiamolo in acqua ancora una volta e vediamo se riusciamo a catturare qualcosa di più positivo.